Franco Ferrari, una brutta giornata, una brutta sconfitta, a questo punto addio al terzo posto. Addio no, ma come ha detto prima è troppo difficile arrivare ai terzi. Siamo dispiaciuti, chiediamo scusa alle persone che sono venute fin qua, che ci hanno supportato dal primo giorno. Quindi, mi ha detto lei, una giornata bruttissima perché abbiamo perso e non si poteva perdere. Una brutta giornata, direi anche un brutto Pescara. Insomma, c'è stata questa reazione tua dopo il 2-0 con il gol del 2-1, ma per il resto nel secondo tempo poco o nulla. E anche nella prima parte di gara non eravate riusciti a costruire chissà che. Infatti, come ha detto lei, oggi è stata una giornata brutta dal livello tattico su tutto. Abbiamo sbagliato tante cose, quindi chiediamo scusa, come ho detto prima, ai tifosi e alla gente che ci è sempre stata. Addio al terzo posto, a questo punto si guarda alle prossime tre partite cercando di fare il massimo e poi prepararsi a questi play-off. Certamente, magari se si danno i risultati e noi vinciamo tutti e tre c'è una piccola possibilità, però ci prepariamo al massimo per questi play-off. A questo punto come si può raddrizzare questo finale di stagione in attesa della seconda fase, Franco? Finendo nei migliori dei modi. Abbiamo sbagliato oggi, ma penso che i giocatori ci sono, l'allenatore c'è, ci sono tutti e purtroppo abbiamo sbagliato tanto. Speriamo di non farlo in futuro. Dopo la vittoria con il Cesena si era parlato di un calendario alla portata, di partite che Pescara poteva vincere. Invece dopo quella ottima partita giocata dal Delfino sono arrivate solo delusioni. Come dico sempre, la Serie C non è facile, tutte le squadre, tutti i campi sono difficili. Non c'è partite facili o partite difficili. Purtroppo si diceva così, ma ormai è capitato di mandare avanti. Per te 15 gol, una magra consolazione in questo momento? Sì, però ti dico che ero più contento se si vinceva, ti sono sincero. La cosa bella è arrivare a 15, però purtroppo se ha perso non mi lo godo come lo potrei aver goduto. Cosa vi siete detti negli spogliatoi al 91esimo dopo questa battuta d'arresto? Niente, c'era poco da parlare, c'era tanto da fare, abbiamo sbagliato, sappiamo che abbiamo sbagliato. Non attacchiamo nessuno, non ci prendiamo le colpe su nessuno, abbiamo sbagliato tutti. Se va avanti cambiando strada come abbiamo fatto nelle partite precedenti, come ha detto lei, per arrivare ai migliori di noi nelle prossime partite.